Dopo essere passati attraverso le forche caudine del congresso di Vienna e aver rassentato pericolosamente i moti rivoluzionari che seguirono alla restaurazione, andiamo a parlare di quel periodo fecondo e facondo che portò alla Unità d'Italia, con la quale chiuderemo questo facondo e fecondo anno scolastico. Questa è l'Italia alla vigilia dell'unificazione, vediamolo in questa carta geografica, al di là dell'impero ottomano e la Francia, che non sono Italia, i regni italiani più importanti, cioè il regno di Sardegna, voi vedete dai colori, regno Lombardo-Veneto, Gran Ducato di Toscana, Stato Pontificio, regno delle Due Sicilie. Allora, dopo i moti di cui abbiamo brevemente parlato nei vari filmati, nei vari compiti che vi ho assegnato, l'epilogo dei moti, in particolare dei moti del 48 in Italia, è negativo ovunque. Nel Lombardo-Veneto, Radeschi, governatore militare civile, maresciallo Radeschi, che era il capo, il primo ministro dell'impero asburgico dell'Austria, attuò una politica militare punitiva verso l'elite nobiliare borghesi, che ritenne le vere responsabili dei moti rivoluzionari, mentre cercò il sostegno dei contadini. Un'imposta straordinaria colpì i cittadini più ricchi. L'amnistia del 1849, escluse i patrioti, e 27 condanni a morte colpirono i cospiratori arrestati dal 1851 al 1853. Gli emigrati, per motivi politici, subirono il sequestro dei beni. Quindi si continua ad usare le maniere forti, la restaurazione più feroce e decisa. La politica di Radeschi, in realtà, colpì anche i contadini, che furono condannati a morte in gran numero, per reatri contro persone proprietà da un tribunale itinerante. I contadini dovevano anche subire la coscrizione militare obbligatoria, dovevano fare per forze militari a servizio dell'impero asburgico. Non godettero di nessuna misura economica favorevole. Secondo l'ambasciatore inglese, si verifica che un unico radicato sentimento d'odio pervade la mente di ogni uomo, donna e bambino in tutta la Lombardia. Altri sovrani che attuarono misure repressive furono Federico II di Borbone a Napolo, Pio IX nello Stato Pontificio e Leopoldo II in Toscana. Parliamo adesso del Piemonte. Perché è importante il Piemonte? Perché il Piemonte sarà quello che conquisterà l'Italia intera. E i due tizi che saranno gli artefici della conquista dell'Italia, della creazione del Regno d'Italia, sono questi due uomini strani che vedete in queste immagini. A sinistra Vittorio Emanuele II di Savoia e a destra Camillo Benzo Conte di Cavour, primo ministro di Vittorio Emanuele. L'unica zona d'Italia in cui si mantenne quindi una linea politica liberale senza repressioni fu il Piemonte. Questo fu importante. Lo Stato Sabaudo mantenne lo statuto albertino concesso da Carlo Alberto e ospitò molte migliaia di patrioti in fuga dai rispettivi stati dopo i moti del 1948. Quindi non fece repressione ma mantenne lo statuto che era stato concesso dal re. Il nuovo re Vittorio Emanuele II scelse come presidente del Consiglio liberale e moderato Massimo D'Azeglio. Il governo di D'Azeglio agì in due direzioni. Primo, definire i rapporti tra Stato e Chiesa. Secondo, modernizzare l'economia e le infrastrutture di Piemonte e Liguria. Vedete come erano belli anche Vittorio Emanuele II e l'abbiamo già visto in un'altra immagine e qua sembra più photoshoppato. Diciamo così e questo era Massimo D'Azeglio. Le cosiddette leggi Siccardi approvate nel 1850 prevedevano l'abolizione di tribunali separati per i membri del clero, del diritto d'asilo per chiese e luoghi di culto, in pratica i membri del clero che commettevano dei reati venivano giudicati in tribunali appositi, non insieme agli altri. In chiese e luoghi di culto, come si vede anche nei promessi sposi, per esempio, che nel 1600 già era così, se uno aveva ucciso una persona per strada e se andava a rifugiare in chiesa aveva l'immunità, non poteva essere preso. Altre decisioni delle leggi Siccardi furono la riduzione delle feste religiose riconosciute dallo Stato, una limitazione forte dell'acquisizione di beni per lasciti o donazioni per chiese e enti ecclesiastici. Quindi non furono proprio leggi a favore della Chiesa, diciamo così. Quindi i rapporti tra lo Stato dei Savoia e lo Stato Pontificio divennero più tesi, però questa cosa certificò anche il carattere più liberale, più laico dello Stato dei Savoia. E fu importante perché poi, per poter unire l'Italia, si doveva conquistare anche lo Stato della Chiesa. Cavour entra nel governo d'Azeglio, guardate che figo, qui è molto photoshoppato, non era così carino. Una accelerazione della modernizzazione del Regno di Sardegna venne dall'ingresso nel governo d'Azeglio di Camillo Benzo di Cavour. Cavour, nobile formato tra Piemonte e Svizzera, aveva viaggiato lungamente attraverso l'Europa e si era formato una cultura aperta, fortemente liberista in economia e decisamente laica. Negli anni 40 si era fatto conoscere come giornalista e esperto di agrimenzura, un agrario in pratica. Diventò ministro dell'agricoltura, commercio e marina per poi passare al ministero delle finanze promosse ai trattati doganali liberisti con Francia, Belgio e Inghilterra. Quindi Cavour era un uomo molto progressista, molto che guardava al futuro, almeno così apparve in un primo momento quando ancora giovanetto entrò nel governo d'Azeglio. Cavour si alleò politicamente con la sinistra parlamentare di Urbano Rattazzi nel 1851. Guardate anche Urbano Rattazzi, meno photoshopato degli altri, con i soliti baffi d'ordinanza dell'epoca. Cavour aveva paura di un colpo di stato con cui Luigi Napoleone in Francia aveva posto fine alla Seconda Repubblica che era diventato imperatore, questo colpo a sorpresa potesse rafforzare i conservatori antiliberari in Piemonte, per dirlo in parole povere. Piemonte ha concesso lo statuto, liberismo economico, liberismo anche nei confini con gli altri stati. Cavour aveva paura che però il fatto che in Francia si fosse tornati all'assolutismo in pratica potesse rafforzare la voglia di diventare assolutisti anche dei piemontesi che erano vicini alla Francia e sono vicini alla Francia. Il re Vittorio Emanuele II affidò al Conte Camilla Benzo, Conte di Cavour, l'incarico di formare un nuovo governo sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra dopo la crisi del di Castero di Razzeglio. Questo incarico lo ebbe nel novembre 1852. I liberali conservatori chiamarono questa operazione politica a connubio criticandone l'innaturalità politica perché Cavour era di fatto un moderato, non era così liberale alla fin fine e alleato con la sinistra era troppo. Cavour disponeva però, alleandosi con la sinistra, di una stabile maggioranza parlamentare per moderare il re, per affermare il primato della Camera dei Deputati e continuare la politica di riforme. Effettivamente Cavour si rivelò molto audace anche nel cosiddetto liberismo. Si parla di lui, della sua politica, come politica libero-scambista. Non ha a che fare con gli scambisti, ma sapete cos'è il liberismo in economia? Vuol dire che lo Stato interviene il meno possibile lasciando il tutto all'iniziativa privata. In questo modo, per esempio, Cavour fece abolire il dazio sul grano, abbassò le dariffe doganali per favorire il commercio dei prodotti agricoli, soprattutto il riso, promosse diverse opere pubbliche pagate in asprendo le tasse, canali, strade, ponti, sviluppò le ferrovie per poter favorire il commercio e stimolare l'industria siderurgica e meccanica e furono favoriti anche i cantieri in Liguria, perché sappiamo che la Liguria faceva parte del regno dei Savoia, quindi se ne occupava sempre Cavour alla fine. L'unico neo fu il persistere del disagio nelle classi popolari cittadine e campagnole, tra le quali l'alfabetismo era elevato addirittura al 65%. Il governo di Cavour fu protagonista di un forte scontro con la Chiesa Cattolica. Nel 1855 decise di sciogliere gli ordini religiosi contemplativi e di destinare i proventi della vendita del loro bene a una cassa che doveva pagare la congura dei sacerdoti, lo stipendio dei sacerdoti. Lo stesso re Vittorio Emanuele II si oppose al provvedimento, ma dopo momenti di grave tensione fu costretto a riconfermare Cavour al suo posto di Presidente del Consiglio. La legge fu approvata e questo definì con precisione il rapporto di separatezza tra Chiesa e Stato. Insomma, lo Stato del Piemonte fu uno Stato fortemente anticlericale per quello che era percepito dalla Chiesa dell'epoca, almeno. Cavour inoltre impose il principio dell'autorità del Parlamento in generale e della Camera in particolare come garante della responsabilità del governo. Si rompe il principio previsto dallo Statuto Albertino secondo cui il governo deve essere responsabile solo davanti al re e si introduce quello per cui il re nomina un governo che dispone di una maggioranza del Parlamento e in particolare nella Camera elettiva. L'equilibrio dei poteri fissato dallo Statuto si sbilanciò a favore del Parlamento e a scapito del re. Cavour ebbe in politica estera nei primi anni di governo l'obiettivo tradizionale dei Savoia, cioè l'allargamento dei confini del Regno di Sardegna all'intera area settentrionale perché i Savoia quello che volevano fare è conquistare il nord Italia. Come fecero a conquistare tutto perché vi ricordi qualcosa Giuseppe Garibaldi? Poi ne parleremo. Perseguì però questa strategia con una abilità e una spregiudicatezza sconosciute alla vecchia diplomazia senza mai precludersi la possibilità di raggiungere traguardi più ambiziosi. Cavour volle avvicinare il Piemonte all'Europa più moderna e più sviluppata, Francia e Gran Bretagna, che erano molto molto più grandi, erano nazioni intere, in modo da rendere il Regno Sabaudo una potenza europea, non poteva essere di primo livello perché era troppo piccolo come regno, però una media potenza europea. Una tappa importante in questa strategia fu la decisione sancita dal voto del Parlamento nel 1855, siamo a pochi anni dall'unità d'Italia, di partecipare con un corpo di sperizione alla guerra che Gran Bretagna e Francia stavano combattendo in Crimea contro la Russia a partire dal 1854, quindi i Piemontesi vanno a combattere con Gran Bretagna e Francia in Crimea. La guerra nasceva dalla volontà di inglesi e francesi di indurre la Russia a ritirarsi da quella zona, dalla zona della Crimea che vedete nella Carsa qui, perché la Russia aveva occupato questa zona in un momento di crisi acuta dell'impero ottomano, sapete che c'era l'impero ottomano e i turchi che aveva tutta quella zona e che era entrato in crisi, in pratica era praticamente scomparso. Quello era stato occupato dai russi, Inghilterra e Francia vanno lì, dicono no, non ci sta bene, eccetera, eccetera. Il corpo di spedizione piemontese, fatto di 18.000 uomini che non erano niente, guidato dal generale La Marmora, ottenne una vittoria significativa contro i russi sul fiume Cernaia. Gli alleati ottennero la vittoria definitiva conquistando la città di Sebastopoli. Il Piemonte così fu in grado di partecipare al congresso di pace di Parigi del 1856 da vincitore. Congresso di Parigi nel 1856. Il congresso di Parigi permise a Cavour di proporre la situazione italiana agli altri stati. In questa sede Cavour protestò contro la presenza di truppe austriache entro i confini dello Stato Pontificio e denunciò la pericolosità del malgoverno dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie come pericolosi fomentatori rivoluzionali. In pratica Cavour approfittò di questa cassa di risonanza molto forte che aveva per screditare quelli che avevano i regni più forti e potenti in Italia, cioè lo Stato della Chiesa e i Borbone, il Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie. Ottenne in questo il sostegno di Gran Bretagna e Francia che avevano combattuto questa guerra con il Piemonte, avevano vinto in Crimea con il Piemonte. Cavour però non ottenne dei risultati concreti, cioè non è che poi Francia e Gran Bretagna dissero facciamo la guerra contro questi stati e facciamo conquistare l'Italia intera al Piemonte, no. Ottenne però il riconoscimento del Piemonte del Regno Sabaudo come potenza europea. Quindi in Italia lo Stato Sabaudo si presentava come l'unico solido alfiere delle ragioni di un'opinione costituzionale e nazionale italiana. Qui è il punto, il momento da cui cominceremo il prossimo intervento, il prossimo filmato. Per adesso vi saluto e spero di essere stato chiaro, esaustivo e onnicomprensivo, oltre che simpatico e divertente.